Bentornati ragazzi nel 49esem episodio di Alan Wake Io come sempre sono un giudice di vuoto E abbiamo spena superato il dannato ponte Oh mio dio la fatica Non verrete con me che è stata una fatica proprio Uscirne fuori Ma ora per vendetta Che ammazzo Me ne frega niente morire Che diamine sta succedendo Andate a cagare Tutti quanti Entra mortazzi tua Oh Ok Non so che diamine sta succedendo Ma che penso si sia bugato l'audio Che bello E la macchina sterza da sola Ovviamente Ok siamo usciti da una situazione veramente di merda Dai ragazzi Dai dai che ce la facciamo Quindi ancora non ho capito come si potenziano le armi qua Dannazione Maledetti Ok la luce non le armi Ok dobbiamo scendere Via 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 Io raccolgo tutto perchè non si sa mai Meglio eliminarle queste cose in caso di fuga improvvisa Non tutte ma almeno una buona parte Me lo metto a riparo perchè io so per certo che tanto questi marivano pure da dietro Lo so proprio per esperienza personale Morite tutti Ok ricarica le munizioni Le munizioni di revolver perfetto Altre munizioni Ah grazie no me conosco abbastanza bene Fuori uno E che se pare che mi arriva uno da dietro Eh ma va Spottetevi Scappate adesso eh maledice No vabbè da dietro Chi l'ha vista questo Ma chi l'ha visto Vabbè va Mi conviene andare avanti Cercare un posto abbastanza sicuro Vabbè ma corri Una volta nella tua vita corri Ok forse ce l'abbiamo fatta Ecco Non sta manco sprecare più di tanta roba Succhiatemelo Succhiatemelo tutti quanti Succhiatemelo Ok Ufff Mamma mia ragazzi Si vede proprio Che ormai Stiamo alla frutta Ci attaccano con tutto quello che c'hanno Tutto Fermo Ma Dai Ma serio E' un po' 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 Stava poco Ok Dai Almeno non ci stanno Gli oscuri Io non ho idea di dove andare Perfetto Direi che meglio di così Non potrebbe andare Ma dai No di qua Penso che muoio Ma sai dobbiamo entrare qua dentro Mi pare l'unica via possibile Non vedo altri scorciatoi E buchi O quant'altro Dai Ripiate Perfetto O forse no Cioè non c'è sta Un'entrata Io come faccio Non so Non so Non so Allora Allora Forse ho capito Dobbiamo andare Verso di là Ci dovrà essere Una entrata Credo Mi sa che mi conviene Prendere la macchina Si Oh mio dio Comunque ragazzi Volevo dirvi Già che ci sto Che finito questo Let's play Ovviamente Farterò come un nuovo E penso Sarà Silent Hill Origins E dopo Silent Hill Origins Passerò ad Un altro gioco Che non so Se sarà Tra Bioshock 1 O Bioshock Eh oh Scusate Dark Souls 2 Ditemi voi cosa volete Nei commenti Io cercherò D'accontentarle Ma sinceramente Io partirei Con Bioshock Perché so Che è molto Amato ancora Ma soprattutto Io amo Quel gioco Io ho perso Un tacco di tempo Lo so Perfettamente Ok Dobbiamo andare Qua per forza Quanto vale Bene Dovevo dire il cancello Grazie al cavolo De vostro dio Qui c'è un po' Di roba E c'erano I nemichi O i nemici Ovviamente Quelli non mancano mai Vero? Voi non potete mancare Assolutamente Altrimenti Mi sentite male Male Maledetti Prendiamo le funzioni Prendiamo tutto Ok di qua si esce Andiamo un po' Al pastore Vediamo cosa c'è Ah Il cancello Sì esatto Ciao Come stai? Stano male Ci stanno altri Magari ce ne fosse uno solo La pittoria Lanciarazzi Si sa Pistole lanciarazzi Lanciarazzi Vabbè Quello che è Ricari che Arman No Mi posso attaccare Altrame Scendiamo di sotto E anche questo episodio Devo finire Va bene Altre obiezioni Sul fatto che Dove finire l'episodio No Meglio così Ok Va bene ragazzi Per questo episodio È tutto Da vostro episodio È tutto Lasciate un like Un commento Sempre se volete Iscrivetevi al canale Stay follow Go